E' Aretino il primo paziente risultato positivo al vaiolo delle scimmie in Toscana. Si tratta di un uomo rientrato da un viaggio dalle Canarie che adesso è ricoverato nel reparto di malattie infettive dell'ospedale San Donato di Arezzo. Il paziente ci è stato inviato per delle lesioni sospette dal medico curante. In effetti è stato subito preso in carico al nostro ambulatorio, valutato. Queste lesioni ricordavano effettivamente quelle viste nei giorni precedenti anche su altri pazienti che erano rientrati da questi viaggi ed è stato subito ricoverato. Dopodiché il giorno successivo, quindi parliamo di sabato mattina, abbiamo inviato tutti i tamponi richiesti dal laboratorio di virologia dello Spallanzani e ieri, domenica pomeriggio, ci hanno dato la conferma della positività dei tamponi per questo virus. Il paziente sta bene, non ha importanti sintomi, è tranquillo, ha le lesioni cutanee senza avere dei sintomi sistemici o segni di complicanze e che sono sostanzialmente l'andamento dei casi che stiamo vivendo in questo periodo, non solo in Italia ma anche nel resto d'Europa. Il 32enne è atterrato all'aeroporto di Fiumicino il 15 di maggio. Due le persone in sorveglianza per i prossimi 21 giorni. Un amico che l'uomo ha visto per un aperitivo il giorno prima del ricovero è il medico di base. Queste le raccomandazioni in caso di sintomi. Di lavarsi sempre accuratamente le mani con acqua e sapone o con soluzioni idroalcoliche e di fare molta attenzione alla comparsa dei primi sintomi che possono essere febbre, dolori muscolari, presenza di lesioni di vescicoli o altre lesioni cutanee e ingrossamento dei linfonodi. La malattia si contrae o per contatto diretto con le lesioni oppure anche con materiali contaminati dall'essudato delle lesioni cutanee, quindi per esempio biancheria del letto, abiti di una persona infetta, ma si contrae anche per via respiratoria sempre ovviamente se il contatto è molto stretto perché si trasmette tramite goccioline grandi di saliva che non fanno mai un lungo tragitto, quindi ci vuole un contatto viso a viso molto prolungato, quindi la diffusione non è così importante e preoccupante come lo è stata per esempio per il Covid.